Avrebbe coltellato e ferito un connazionale durante una lite nel quartiere Libertà di Bari la sera del 6 gennaio. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. La notizia risalente a tre giorni fa è stata resa nota soltanto nelle ultime ore. L'arrestato, un cittadino straniero irregolare di 33 anni, di cui non è stata resa nota la nazionalità e neanche l'identità, è accusato di tentato omicidio. L'arrestato avrebbe precedenti penali e di polizia. La vittima, un uomo di 42 anni, è stato ricoverato nel policlinico di Bari con un mese di prognosi. Ha riportato ferite da taglio a un braccio e al fianco. L'uomo è stato soccorso dal personale del 113 che è intervenuto dopo una segnalazione e lo ha trovato riverso per strada in una pozza di sangue. Poi sono sopraggiunti i sanitari del 118. Nelle vicinanze del luogo dell'aggressione è stato anche recuperato un coltello.